Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, ben ritrovati, 7.06 lunedì 19 febbraio, nuova puntata di Good Morning Milano, nuova settimana a me sembra che febbraio sia più lungo di gennaio comunque stanno, ve lo posso dire, sarà stato il festival di Sanremo a farlo diventare più lungo ma così è, così pare 3 3 1 7 8 5 3 5 5 5 il nostro numero di whatsapp come sempre qui disponibile a tutti quanti voi che ci state ascoltando e anche vedendo perché vi ricordiamo che siamo in diretta video anche su Milano All News oggi giornata di grande festa giusto chiedo a Viola in regia di darmi la conferma confermata in questo istante che questa è la centesima puntata dell'anno giusto? giusto ok è venuto su un ditino che faceva yes e quindi 100 100 100 grandissimo compleanno oggi quindi per Good Morning Milano centesima puntata dall'inizio della stagione ebbene sì ebbene sì noi siamo qui pronti però sempre è solo un inizio questo ah sì sì sembra, ah siete arrivati a 100 adesso, eh no cari miei è solo l'inizio, tante notizie su Milano, città metropolitana e tutto quello che fa e ruota intorno alla nostra città e poi tanta musica e tanti ospiti questo il ricco menu di questo lunedì mattina, il ricco menu che ci porterà ad iniziare una settimana nuova in vostra compagnia e soprattutto grazie a tutti voi appunto di aprirci come sempre le porte di casa vostra e le vostre anche orecchie a fra poco Mahmood tuta gold, 7 e 10 minuti, adesso inizia ormai eh sì 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 inizia la nostra centesima puntata e iniziamo con tutto quello che c'è da sapere ma prima 3 3 1 7 8 5 3 5 5 5 è arrivato un lunghissimo messaggio da Alberto, lo andiamo a leggere, buongiorno alla zio Fabio, ormai basta Viola, sono diventato lo zio Fabio, da quando l'ho detto una settimana fa ormai sono quello ma sono ben contento di essere il vostro zietto della mattina buongiorno allo zio Fabio e a tutti gli ascoltatori di Crystal Radio, auguri a Fabio per le 100 puntate di Good Morning Milano e grazie per l'impegno e entusiasmo che ci mettete tutte le mattine per svegliarsi e tenerci compagnia noi lo facciamo con grande piacere e tutta la squadra di Good Morning Milano saluta e ringrazia coloro voi che ci ascoltate tutte le mattine e poi ovviamente Alberto aggiunge un buona settimana a tutti ebbene sì inizio della settimana che appunto ci vede con la centesima puntata, 100 puntate ma certe cose non cambiano mai come ad esempio lo stadio di San Siro ebbene sì parliamo ancora di stadio, vediamo da Repubblica, Repubblica Milano in titola, Milan, Scaroni, avanti sullo stadio a San Donato, spesi 40 milioni per i terreni ristrutturare San Siro, la lettera di WeBuild non mi convince, vabbè non lo convince il presidente Rosso Nero dice che il sopralluogo non ha dato risposte alle mie domande, pronti al dialogo solo se verrà messo nero su bianco con una fideiussione la possibilità di portare avanti i lavori giocando a porte aperte, quella roba lì insomma non lo convince, dice non mi convince quindi noi andiamo avanti su San Donato abbiamo speso già 40 milioni per i terreni, vabbè sono dei terreni niente male, 40 milioni di terreni e nelle ultime ore appunto la vicina dello stadio ha assunto le dimensioni dell'intrigo appunto perché il garbuglio si infittisce così dice Repubblica Sala dice che i due club devono andare mai a parlare, a incontrarsi, quindi li invita poi c'è un sopralluogo, c'è questa lettera di WeBuild che dice siamo pronti alla realizzazione delle opere senza che le squadre debbano abbandonare lo stadio ma Scarone appunto di Del Milan, la di Del Milan non ci sta in più, ci si mette anche il carico da 90, chi? Ferruccio Resta Ferruccio Resta chi è? Il presidente della fondazione del Politecnico andiamo a leggere invece il Corriere della Sera Milano che dice Stadio San Siro Ferruccio Resta dice ristrutturare ammeazza è come una toppa, per puntare in alto serve un nuovo impianto e si risaltano fuori delle situazioni che lo stesso Politecnico tempo fa non aveva dividenziato quindi anche questa cosa qui bisogna capire un attimino come funziona perché il presidente della fondazione dice lo stadio ora soffre di vibrazioni sotto carico che non vuol dire, posso dire che scritta così, quindi io credo che sia anche un virgolettato tirato fuori magari male dal discorso che ha fatto Resta ma detto così non vuol dire niente anziché lo stadio deve vibrare, lo stadio deve oscillare lo sappiamo benissimo altrimenti si spezza, ha dei limiti di isolamento acustico così dice e non è adeguato nelle sedute e nei corridoi, il restyling non risolverebbe le criticità adesso io vorrei capire, da una parte la fondazione Politecnico dice così dall'altra coloro che hanno sviluppato il progetto della ristrutturazione dicono che invece si risolverebbe ogni problema e poi c'è anche chi dice che i problemi non esistono, nel senso che le vibrazioni dello stadio sono normali anzi così è stato almeno un paio d'anni fa quando abbiamo fatto e anch'io era presente una commissione del comune di Milano nello stadio di San Siro abbiamo avuto la certezza dai tecnici dello stadio di San Siro che le vibrazioni che ci sono sono tutte nella norma tranne in due occasioni in cinque anni c'erano state due occasioni in cinque anni in cui le vibrazioni erano anomale anomale invece non è mai cosa, il traffico a Milano o meglio forse lo è sempre ma per fortuna c'è luce verde Rolling Stone Satisfaction e questi erano i Rolling Stone con Satisfaction alle 7 e 19 minuti qui su Cristal Radio come sempre con Good Morning Milano puntata numero 100 ve lo ricorderò tutto il giorno oggi ma insomma aspetto anche i vostri Whatsapp al 3317853555 notizia invece di tutt'altro tenore da Repubblica Milano non parliamo più di stadio, non parliamo più di sciocchezze ma anzi è successo proprio nel weekend, è successo sabato depongono fiori per Navalny a Milano e vengono identificati dalla Digos una cosa incomprensibile ebbene sì, lo leggiamo da Repubblica Milano interrogazione a ministro Piantedosi del senatore democratico Sensi la promotrice Marina Davidova dice siamo stati tutti schedati anche se siamo in Italia ci siamo sentiti come se fossimo cittadini russi come si sentono i cittadini russi in questi giorni ebbene sì, è arrivata la Digos a identificare una dozzina di persone che domenica pomeriggio hanno deposto dei fiori in memoria di Alexei Navalny a Milano in Corsocomo, vicino a Corsocomo c'è il Giardino Politovskaya quindi un altro personaggio un altro simbolo della libertà di espressione in Russia ebbene, la Digos è arrivata e ha identificato questa dozzina di persone che stavano semplicemente mettendo dei fiori in ricordo del dissidente russo ucciso, morto, non si capisce bene quindi bisogna stare attenti a cosa si usa come termine ricordo storie anche di persone che sono volate dalle finestre delle questure in anni passati scusate la digressione milanese ma sta di fatto che niente, identificate anche loro allora aggiungiamo la lista delle cose che non si possono fare o meglio, che non è che non potete fare perché le potete fare e poi però vengono identificati che non vuol dire niente, vuol dire tutto anche lì bisogna capire aggiungiamo quindi al fatto di non poter dire in un teatro che viva l'Italia antifascista dobbiamo aggiungere anche il fatto di non poter mettere dei fiori sotto una targa quindi attenzione a tutti i fioristi che potrebbe essere che parta l'identificazione di tutti i fioristi così, non si sa mai almeno come era una volta? mettete dei fiori nei vostri cannoni ecco, ma qui non mettete di più da nessuna parte perché se no arriva la Digos così almeno sembrerebbe da quello che leggiamo su Repubblica Milano peccato, peccato come sempre una di quelle notizie che non vorremmo leggere più che altro perché non si capisce bene da che parte andare ricordiamo ad esempio che nella situazione del famoso teatro quando la Digos dovrebbe identificare colui che urlò viva l'Italia antifascista alcuni agenti stessi quando andarono a chiedere le generalità a questo signore erano stupiti di quello che dovevano fare quindi insomma benvenga che anche coloro che devono fare queste cose insomma siano abbastanza sorpresi di certi mi viene da dire ordini che arriveranno dall'alto a questo punto non so bene chi identificherà comunque una brutta storia come sempre una brutta storia che insomma ci sarebbe tanto piaciuto non raccontarvi e non leggere di conseguenza oggi grande presidio per il ricordo di Navalny a Milano quindi comunque non si fermano certe situazioni anzi forse facendo così si aumentano e si amplificano di più tra parentesi questi 12 persone nessuno sapeva che andavano lì a mettere giù i fiori o adesso invece tutti i giornali ne stanno parlando questa è la comunicazione questo è il modo in cui si comunica quest'oggi e in cui le notizie insomma si espandono anche in questa maniera andiamo avanti con la musica piccola pausa poi e torniamo a fa poco adesso è Gali casa mia ricchi e poveri ma non tutta la vita e in regia qui si scatenano a ballare si è la canzone preferita di Sanremo della nostra regia della nostra redazione ormai abbiamo ha vinto questo premio i ricchi e poveri e la cosa divertente è che abbiamo una redazione praticamente età media 12 anni e mezzo e i ricchi e poveri fanno breccia in questa Gen Z se l'avete fatta cari ricchi e poveri ce l'avete fatta anche a fare breccia nella Gen Z complimenti bravi le operazioni quelle che funzionano bene sono sempre ben accettate andiamo avanti invece a leggere le notizie dalla Repubblica Milano perché come cambia la città così in titola Repubblica Milano tra i negozi di quartiere a Milano minimarket e telefoni prendono il posto di giocattoli e macellai ebbene sì perché l'analisi condotta dal Politecnico dice che in crescita sono gli artigiani dell'alimentare mentre crollano le riparazioni e manutenzioni il ruolo decisivo dei progetti di rigenerazione urbana che quindi hanno aiutato anche a sviluppare alcuni alcuni negozi di prossimità perché appunto si chiamano imprese di prossimità e in città secondo i dati della Camera di Commercio sono 43.600 con un totale di 132.000 addetti cioè 132.000 persone a Milano lavorano nelle imprese di prossimità pensate che le imprese di prossimità rappresentano il 18% di tutte le imprese locali e occupano quindi il 13% degli addetti poi vabbè se volete sapere altri dati altri numeri così un po' che prendiamo qui e là dall'articolo pensate rappresentano il 27,5% delle imprese femminili quindi il 30% sono appunto gestite da donne scusate il 30% delle imprese femminili sono imprese di prossimità il 25% delle imprese straniere delle imprese sono imprese di prossimità gestite da stranieri e il 24% delle imprese giovanili sono imprese di prossimità ma ci sono dei sali scendi alcune sezioni merceologiche vedono prendere il largo e altre invece vedono sempre più soffrire tra cui quale esempio meno 12% nei negozi di giocattoli a Milano ebbene sì questo è brutto non si gioca più o si gioca con qualcos'altro o si compra in altre parti le macellerie meno 11 e 73% qui vegetariani e vegani sono riusciti nella loro impresa i negozi di abbigliamento e calzature scesi anche loro 11 e 35% qui la colpa magari forse è di qualche altro store online che puoi comprare quanto vuoi e ridare indietro senza problemi se non ti vanno le scarpe potrebbe essere i ferramenta questo però secondo me è un dato che i ferramenta sono meno 10% e secondo me è qui perché ormai non si va più dal ferramenta piccolo sotto casa ma si va nel grande magazzino e poi un altro dato che insomma è triste è triste le librerie meno 6% le librerie e i fioristi forse per pure della Digos meno 5,5% passatemi la battuta e invece per qualcuno che scende c'è qualcuno che sale chi? i minimarket più 27% per i minimarket negozi di telefonia più 21% le pescherie non me ne aspettavo 12% 11,86% quasi 12% le pescherie maggior ragione vediamo che vedete i vegani e i vegetariani ce la stanno facendo perché i frutti vendoli invece aumentano 8,46% e poi siamo una società di gente che si ammala lo sappiamo infatti farmacie e parafarmacie più 16% e insomma c'è tutto a rivedere un po' il disegno degli negozi e delle attività di prossimità nelle nostre città non si legge più non si va più ad attaccare i chiodi sui muri ma si mangia frutta e si telefona tanto questo è quello che viene fuori 7,37 minuti ritorniamo qui in diretta su Crystal Radio lunedì 19 febbraio vi ricordiamo centesima puntata del nostro show mattutino ebbene si Milano è una grande città lo sappiamo succede sempre di tutto ci sono anche luoghi d'eccellenza oltre a persone di eccellenza tra queste ad esempio la famosa Biblioteca degli Alberi perché vi racconto perché la Biblioteca degli Alberi è stata premiata dall'ONU è un progetto di eccellenza per la gestione sostenibile dello spazio pubblico ebbene si la proclamazione è avvenuta a Dubai dopo la selezione di 2600 candidature provenienti da 144 paesi dal settembre 2019 la data di inaugurazione del parco BAM la Biblioteca degli Alberi ha offerto alla cittadinanza 1620 collaborando con 271 istituzioni identi e quindi successo internazionale per la Biblioteca degli Alberi di Porta Nuova leggiamo dal Corriere della Sera Milano perché a Dubai lo spazio verde urbano milanese ha vinto il Dubai International Best Practice Award for Sustainable Development cioè un premio che dà le migliori pratiche per lo sviluppo sostenibile tradotto in italiano in che categoria? categoria rigenerazione urbana e spazi pubblici il riconoscimento appunto è avvenuto dopo aver selezionato la giuria selezionato più di 2600 candidature provenienti a 144 paesi quindi il BAM vince appunto questa tredicesima edizione del premio ricordiamo il BAM è un progetto di fondazione Catella e Coima Coima sono l'azienda che ha costruito tutta Porta Nuova tutti i grattacieli di Porta Nuova e appunto la fondazione Catella è un progetto che ha visto come dicevamo poco fa più di 1600 eventi dal 2019 ad oggi pandemia compresa quindi insomma pensate quanta roba hanno fatto in quel luogo con ben 271 istituzioni che hanno collaborato alla buona riuscita di questo progetto tanto buona che infatti vince questo importante premio a Dubai come nella categoria rigenerazione urbana come le miglior pratiche per lo sviluppo sostenibile insomma complimenti quindi alla biblioteca degli alberi portiamoci a casa di questo questo premio siamo ben contenti su Corriere della Sera Milano potete leggere tutto l'articolo con anche l'intervista al direttore generale della fondazione Riccardo Catella che appunto spiega tutto quello che il perché di questo successo come è nato l'idea e perché ha avuto tutto questo grande successo e ora avanti con la musica musica che riva da Sanremo un gruppo che abbiamo imparato a nominare ma poi forse la canzone non ha fatto questo gran successo ma che adesso sta cominciando pian pianino a risalire le posizioni delle classifiche loro sono i last head o meglio come diceva il buon Amadeus o anche il buon Fiorello in sua compagnia sono i last head e non i last head qui su Crystal Radio forse è la prima volta che li mettiamo la mattina Viola lo sai dice di sì la mia produzione Viola dice di sì e quindi per la centesia puntata anche un primato mettere proprio a volte la sed qui la mattina però beh dai vi danno un po' di carica che ci sta 3317853555 il nostro numero di Whatsapp grazie per i messaggi grazie a Marco e grazie a Fiorenza ah beh il nome Fiorenza dai grazie Fiorenza di averci scritto questa mattina e entrambi ci augurate una buona giornata buona giornata a voi e spero che appunto abbiate una bella giornata magari in compagnia di Crystal Radio che sappiamo appunto ricordatevi non è che siamo solo noi anzi noi siamo solo inizio noi diamo il calcio di inizio della giornata anzi il calcio nel sedere per farvi uscire di casa questa è la verità cioè vi diamo una bella spinta per cercare di uscire nella migliore delle maniere in strada e affrontare questa giungla del nome Milano welcome to the jungle when the grass is green no quella welcome to the paradise city quella era diversa era paradise city era un'altra roba ma 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 appunto mi raccomando 331-78-53-555 condividete con noi la vostra giornata e il vostro weekend come è andato weekend che è iniziato col carnevale perché sabato era carnevale avete festeggiato ho visto tutte le vostre foto su instagram dove siete andati in giro con chat come dei pirla e l'ho visto bellissimo no 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 bravi 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 ho visto anche dei bei ho visto delle sailor moon interessanti bello bello si vedere gente di 40 anni vista la sailor moon fa abbastanza sorridere devo dire no però beh la generazione è quella lì e quindi ci sta ho visto un mio carissimo amico si è vestito scusate se faccio pubblicità e non vorrei che poi il kodakos mi rompa le scatole anche a me ma da mordicchio avete presente quel coso che si mangia che si trova nei bar all'oratorio si trova anche è una barretta fatta di di roccioline che si chiama mordicchio a colui si è vestito da mordicchio pensate quanta quanta fantasia rosevillian click boom allora adesso vi devo parlare di sport e devo sfatare il mito che non ne capisca niente subito devo fregare la mia producer che ha detto vabbè adesso verrà benissimo questo blocco cioè proprio neanche chi lavora con me mi dà supporto allora weekend amaro per lo sport milanese tranne che per l'inter perché l'inter sappiamo benissimo che ieri no ieri venerdì ha vinto 4 a 0 contro la serenitana ma poi nel weekend è successo il disastro per i restanti squadri di milano partendo dal calcio il milan ha perso 4 a 2 contro il monza quindi 4 pappine nel monza al milan chissà galliani se sta festeggiando credo di sì in fondo in fondo ma 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 il basket l'olimpia perde sul filo dei secondi la finale di coppa italia con napoli napoli che si riporta a casa dopo 18 anni l'unica volta che aveva vinto una coppa italia si riporta a casa la coppa italia appunto 77 a 72 e quei 5 punti ci lasciano appunto il secondo posto della coppa italia niente coppa a milano e quindi niente via l'olimpia perde questa finale roccambolesca che appunto li ha visti sugli ultimi secondi appunto perdere poi di 5 punti ma non è l'unica squadra milanese che va a perdere perché anche nella pallavolo anche lì c'era la coppa italia e la verovolley l'alleanza verovolley la squadra femminile di milano perde la sua finale nonostante appunto la squadra che viene definita la milano di paola enogu battuta nella finale di coppa italia dalla corazzata conegliano le milanesi riescono a portare l'anniversario al quinto set ma poi devono arrendersi pensate comunque quinto titolo consecutivo per le venete di conegliano che vedono far sfumare anche queste possibilità a milano diciamo che insomma questo weekend io che non seguo sport ho vissuto felice perché se avessi seguito anche solo uno sport a caso qui finiva male se su quattro importanti avvenimenti solo l'inter ci può portare gioia un saluto a tutti gli interisti e complimenti a voi ma insomma tutto il resto che cosa è quello che vi stupisce di più l'olimpia che perde la finale di coppa italia sul filo del rasoio la cavalcata della verovolla di milano che invece viene fermata da conegliano che comunque appunto incolliamo quinto titolo di seguito quindi non è che proprio l'ultima arrivate con il conegliano oppure questo 4 a 2 di ieri che il Monza ha dato al Milan con anche un spulso insomma situazione in cui appunto Milan in 10 e si è preso 4 pappine dal Monza un derby può essere che Monza-Milan sia il nuovo derby di Milano adesso abbiamo finalmente 3 derby Milan-Inter Inter-Milan anzi 4 perché poi c'è Inter-Montza non lo so Milan-Inter si conta una volta o due volte perché ce ne andate il ritorno non lo so comunque 4 a 2 è finita così ebbene sì se siete sportivi questo weekend non è che è andato benissimo per voi mi spiace molto per il basket devo dire la verità che l'Olimpia ce l'avevo sperato un po' ma anche le ragazze del volley poverette però ripeto 5 volte con il liano la quinta volta di seguito cerchiamo a questo punto di rimboccarci le maniche per il prossimo anno e comunque anche per il campionato non abbandoniamo non abbandoniamo ragazze mi raccomando non abbandoniamo sempre così sempre qui dobbiamo essere sempre qui come dice Vasco Rossi siamo qui Vasco alle 7.52 qui su Cristal Radio noi fra poco è piccola pausa e poi ci ritroviamo sempre qui in diretta su Cristal Radio Good Morning Milano e grazie mille ad Ambrogio Curti ed eccoci qui di nuovo in diretta qui a Cristal Radio qui a Good Morning Milano sono le 8 e 15 minuti e ci ha raggiunto con noi la consigliera comunale Francesca Cucchiara buongiorno 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 allora gruppo Europa Verde Europa Verdi Europa Verde Europa Verde Europa Verde i Verdi era una volta adesso Europa Verde così mettiamo i puntini sulle i allora Francesca grazie mille di essere qui con noi grazie a voi è diventata famosissima perché stavi cercando casa a un certo punto anzi quindi iniziamo subito da questo allora è stata una provocazione sì e no nel senso che tu realmente cercavi casa non è solo una provocazione l'hai fatto poi nel mondo attuale con i social diventa in un attimo poi tutto virale e trend prima domanda come va la ricerca a casa l'hai trovata finalmente sì sì alla fine dopo un po' sono riuscita a trovare ma devo dire perché ho avuto effettivamente un po' di fortuna ho trovato questa attraverso passaparola ho trovato questa persona che effettivamente mi affittava questo bilocale a un prezzo più basso diciamo un prezzo di mercato ecco quindi in un certo senso sono stata fortunata se no sarebbe stato decisamente molto più complicato così com'è per tante persone infatti perché questo è il tema cioè non è tanto trovare o non trovare la casa te Francesca con tutto il bene che ti vogliamo ma il tema era io sono nella condizione di tanti altri che invece magari non hanno la mia rilevanza mediatica che non riescono a uscire e quindi cercano casa Milano che è un tema molto molto complicato giusto è molto sentito infatti diciamo questo posto quello che ho scritto alla fine diciamo è diventato in un certo senso virale proprio per questo io quando l'ho scritto diciamo non mi aspettavo che si diffondesse così tanto però così è stato perché il problema è molto sentito e tante persone mi hanno scritto qualcuno insomma anche proponendomi contatti di affitto ma anche tante tante persone per raccontarmi la loro storia e quindi vuol dire che è un tema che ha sentito di cui le persone hanno bisogno di parlare hanno bisogno di risposte ed è una diciamo è una questione molto complicata perché è qualcosa su cui il Comune di Milano può fare sicuramente di più deve lavorare ma non ha tutti gli strumenti per affrontare diciamo in maniera sufficiente il problema poi insomma qui posso raccontare un po' che cosa infatti quello che sconvolgete che chi non lo sta bene dice ma Milano è una città costosa è ovvio per i servizi e tutto e nessuno mette in dubbio questo nessuno mette in dubbio che ovviamente un affitto a Milano debba essere più alto di un affitto in un paesino disperso nelle campagne romagnole ad esempio ecco me ne vogliono chi capita lì però nessuno mette il problema è quanto in più a quanto siamo arrivati ormai per delle stanze per gli studenti so che te l'ho scritto in tanti quindi avrai ormai degli excel precisi ormai sei meglio di immobiliare.it credo su questo giusto? ma devo dire che ne ho viste tante ho visto appartamenti anche veramente microscopici a più di 1000 euro al mese ecco pensiamo che secondo ad esempio lo studio fatto dall'osservatorio sull'abordabilità della casa la spesa che noi dovremmo dedicare all'abitazione non dovrebbe essere più del 30% il nostro stipendio ok quindi se pensiamo che lo stipendio medio stiamo sui 1500 quando va bene un po' esatto è un po' arrotondato ecco già una stanza che ti costa 600 euro 700 euro siamo già oltre quindi è un prezzo eccessivo soltanto per una stanza quindi o ci date 3000 euro al mese oppure bisogna abbassare gli stipendi cioè bisogna abbassare scusando gli stipendi c'è un tema di salari sicuramente o si alza da una parte o si abbassa dall'altra no? gli affitti sono aumentati moltissimo poi dal 2015 dal 2015 in poi viva Expo è espottimista però insomma dall'Expo in poi sono aumentati quasi il 40% gli affitti nel frattempo però i salari non sono aumentati quindi diciamo c'è questa forbice importante che poi è quella che va a determinare quella che si chiama la gentrificazione per cui le persone sono costrette a emigrare in un certo senso ai margini della città e questo è un problema che si può affrontare nel senso non è una condizione inevitabile ecco però servono tutta una serie di strumenti innanzitutto bisogna ripartire dall'edilizia residenziale pubblica noi abbiamo diversi appartamenti di edilizia residenziale pubblica che al momento sono sfitti sia lato MM sia lato ALER quindi della regione però servirebbero moltissimi fondi per recuperarli cioè anche solo per il comune di Milano per arrivare in una situazione in cui siamo ad affitti zero servirebbero 200 milioni in cinque anni cioè tantissimo per questo serve veramente un investimento con fondi nazionali per recuperare il patrimonio che abbiamo di dedizia residenziale pubblica già con quello insomma si riuscirebbe un po' a intervenire tu che sei una che appunto con la tua posizione in consiglio comunale puoi vedere i conti i numeri ma questo famoso PNRR non è riuscito a darci una mano in questa direzione oppure non sono arrivati i fondi da questo punto di vista si però i fondi PNRR sono vincolati si possono spendere soltanto per alcuni progetti non siamo noi che diciamo vediamo di che cosa abbiamo bisogno e poi chiediamo risorse il PNRR è troppo semplice è troppo semplice comunque è stato fatto che appunto il problema della casa è un problema grosso a Milano e attualmente però non è uno degli unici problemi che abbiamo Milano veramente ultimamente vede aumentare in maniera esponenziale non i propri stipendi sì gli affitti ma anche i problemi il problema che tutti abbiamo sott'occhio ma soprattutto visto che non c'è uno di noi che non sta star mutendo un po' di tosse o cose del genere è l'irrespirabilità dell'aria di Milano in questo periodo esatto adesso l'aria è veramente irrespirabile tra l'altro abbiamo toccato proprio l'apice ieri sera con un'area che veramente rasenta la tossicità di domenica sera quindi non sono solo le auto è tutto un insieme perché di domenica sera dove non c'è in giro quasi nessuno arriviamo a questi livelli cioè vuol dire che c'è veramente un grosso problema di come è strutturata questa città a un certo punto il tema partiamo dal punto di partenza e cioè che ci troviamo in pianura padana e quindi l'inquinamento diciamo si concentra lì tu sei giovane c'era stata una soluzione era stata proposta una soluzione tantissimi anni fa in una trasmissione RAI era quella di buttare giù il turchino non sto cherzando andate a cercare avrebbe risolto il problema della nebbia in Valpadana e dell'inquinamento in Valpadana già negli anni metà anni 70 un genio andò in una trasmissione RAI forse a Portobello o cose del genere a dire ho la soluzione tiriamo giù il turchino che porta verso la Liguria così che l'aria circola e come dire apriamo le finestre visto che è un po' infattibile visto che è un po' infattibile bisogna trovare altre soluzioni immagino allora sì diciamo che innanzitutto abbiamo il problema del fatto di trovarci in pianura padana e quindi non come dire non respiriamo soltanto l'inquinamento che produciamo come città ma anche quello che viene da fuori quindi quello che deriva ad esempio dagli allevamenti intensivi dagli scarichi industriali però per quanto riguarda invece l'inquinamento che produciamo come città vanno fatti di distinguo cioè la maggior parte di inquinamento se prendiamo ad esempio il PM10 il 44% proviene dal trasporto è per questo che le misure emergenziali emergenziali non solo anche strutturali ma quelle su cui dobbiamo intervenire anzitutto quando ci sono queste situazioni sono quelle che riguardano il trasporto quindi il traffico veicolare quindi l'NOX quasi il 60% deriva dal traffico veicolare così pure il PM10 il PM2.5 che è il particolato quello più fine che quindi è ancora più pericoloso per questo è importantissimo andare a intervenire lì per limitare diciamo il traffico veicolare è un problema anche perché tantissime auto parliamo di oltre 600 600 mila auto vengono da fuori allora io comprendo che nel momento in cui abbiamo un trasporto ferroviario che non funziona che è molto molto carente in cui ci sono tantissimi ritardi perché sappiamo che ci sono tantissimi ritardi allo stato attuale e le persone sono costrette a prendere l'auto allora è lì che bisogna intervenire cioè dobbiamo fare in modo che le persone possano arrivare in città a Milano quindi bisogna intervenire sull'area metropolitana senza dover prendere necessariamente l'auto privata perché ricordiamo che abbiamo fatto ci sono delle soluzioni attualmente in atto tipo area B però sembrano quasi ininfluenti non risolvono il problema allora diciamo che area B è stata disegnata per ridurre i veicoli più inquinanti che effettivamente quindi non tutte le auto diciamo non è una diciamo una tassa per ridurre il numero di auto quale può essere per esempio area C invece area B è fatta per ridurre i veicoli che sono soltanto quelli più inquinanti che effettivamente un po' si sono ridotti 8% quindi non tanto ma in parte anche perché molti hanno cambiato l'auto effettivamente l'hanno cambiata quindi di quelli che non voleva cambiare l'hanno cambiata in tre forse gli altri l'hanno cambiata comunque perché ormai era vecchia vetusta l'auto come dire però ecco diciamo un 8% di veicoli più inquinanti poi alla fine è stato ridotto e il problema è che qui abbiamo bisogno a tutti gli effetti di misure che in realtà dovrebbero essere molto più drastiche bisognerebbe per esempio soprattutto in questi momenti introdurre le targhe alterne cioè bisognerebbe limitare la circolazione anche dentro la città quando ci sono queste situazioni qua per adottare queste misure che potrebbero essere introdotte con un'ordinanza ad esempio e serve però diciamo un accordo con la regione perché se no Milano non può così in autonomia diciamo adottare delle misure più restrittive con strumenti diciamo emergenziali quelli di un'ordinanza ecco per questo abbiamo chiesto un tavolo tecnico con la regione per intervenire su questo e allora aspettando che questo tavolo prima o poi si faccia andiamo intanto con un po' di musica poi torniamo qui sempre con Francesca Gucchiara a parlare di tutto quello che è Milano e quello che si può fare appunto per migliorare questa città perché poi le idee ci sono però poi è complicato mettere in atto ma poi ci spiega perché Francesca ci spiega bene perché a volte appunto bisogna fare il tavolo bisogna cercare di fare sempre sempre meglio andiamo avanti con un po' di musica Angelina Mango ciao Annalisa Mango chi potrebbe essere un nuovo medley volendo Angelina Mango con La Noia Maninni con Spettacolare bentornati qui su Crystal Radio bentornati a Good Morning Milano 3317853555 il numero di Whatsapp come sempre se volete intervenire raccontarci qualcosa o fare qualche domanda ai nostri ospiti oggi parliamo appunto con Francesca Gucchiara stiamo parlando di come è difficile ormai anche governare la città di Milano perché insomma non è per niente semplice quante cose voi in consiglio comunale ma quante cose dovete sapere come fate a saperle tutte? Allora innanzitutto non si finisce mai di studiare è uno studio continua però ammetto che a volte si vive un po' con frustrazione perché come dicevo su tanti aspetti che siano quelli ambientali che siano quelli appunto sociali relativi alla casa ad esempio si hanno effettivamente pochi strumenti già di per sé come consigliere non si hanno insomma grandi grandi leve insomma il consigliere di fatto è quello che fa insomma può proporre emendamenti può proporre degli atti di indirizzo però diciamo ha poco potere già di per sé e poi in generale comunque c'è un tema cioè che comunque gli antilocali avrebbero bisogno di maggiore autonomia banalmente maggiore autonomia di spesa per far fronte a dei problemi che sono problemi insomma molto complessi Il tema dell'inquinamento a Milano appunto è un tema che è molto caro appunto come Europa Verde state facendo tanto tante operazioni ma il consiglio comunale qualche settimana fa ha provato diciamo comunque non è che ha provato tu non sei stata zitta diciamo ma di fronte a quello che è successo con ultima generazione e poi Extinction Rebellion nel senso che ultimissima è stata quella di punto Extinction Rebellion che dopo che gli attivisti hanno lanciato la vernice sul dito di Kat giusto se non mi ricordo era quello l'oggetto quella è l'ultima generazione ultima generazione la multa è stata fatta per degli striscioni neanche mai usciti cosa è successo Extinction Rebellion voleva protestare voleva mettere degli striscioni non li ha messi si sono presi comunque una multa e il consiglio il comune ha detto sì sì andiamo avanti così e tu hai detto ma forse c'è qualcosa allora è successo questo che otto attiviste di Extinction Rebellion sono state fermate davanti a Palazzo della Regione Lombardia perché volevano esporre questo striscione che era sull'insostenibilità delle Olimpiadi sono state bloccate ma comunque sono state multate per aver esposto uno striscione che a tutti gli effetti non hanno esposto quindi noi abbiamo presentato il caso in consiglio perché sono stati multati dalla polizia locale quindi su questo abbiamo sottoposto un'interrogazione adesso siamo in attesa di una risposta per capire con quale criterio è stata assegnata questa multa il punto è che comunque quello che ci pare di vedere alla luce di quello che è successo con Ultima Generazione con Extinction Rebellion che sono due organizzazioni comunque diverse che agiscono in maniera diversa però è che c'è una sorta di accanimento o un pregiudizio diciamo nei confronti di queste persone e lo vediamo anche in consiglio nel modo in cui si parla di questi eventi tante volte ci troviamo con l'opposizione che appunto li accusa di essere ecoterroristi cioè terrorismo è tutt'altro neanche tirare fuoco uno stricione voglio dire addirittura esatto imbrattare non danneggiare un'opera d'arte poi insomma possiamo essere d'accordo oppure no però voglio dire non è un atto terroristico e quindi diciamo che ci sia questa esagerazione questa forzatura ci fa capire quanto diciamo ci sia una sorta di appunto di accanimento nei confronti quello che un po' mi ha stupito però appunto è che soprattutto nel caso ad esempio dell'imbrattamento di Cattelan il comune è andato avanti è parte civile nel processo e nello stesso processo in cui lo stesso autore Cattelan ha detto ma va bene non l'hanno fatto non hanno imbrattato non hanno rotto niente hanno solo imbrattato la base della mia struttura e oltretutto lui era anche d'accordo col gesto alla fine si leggeva questo tra le righe si è anche ironizzato dicendo tutto sommato dai giallo è un bel colore in questo stato solidale perché diciamo non si tratta di atti di vandalismo fosse stato a tutti gli effetti un atto di vandalismo avrei anche capito ma questo è un atto dimostrativo che serve per portare attenzione su un tema poi può essere come dire condiviso non condiviso fatto sta che portare a processo delle persone quando il danno effettivo è una spesa di 417 euro di spese di pulizia l'abbiamo trovato assolutamente una cosa eccessiva quel comune che tanto però si vanta di essere il comune green è quello che un po' mi fa ribollire il sangue dentro tanto che si dice vogliamo fare vogliamo essere il grande comune green tu tra l'altro si credo tu sei lavorato in una cosa di insostenibilità in quel campo in quel mondo lì infatti insomma non fa un po' storcere il naso questa cosa infatti abbiamo protestato diciamo non siamo stati perché diciamo il comune di milano come ha ragionato ha detto se qualcuno mi fa un torto se qualcuno danneggia qualcosa di mio col fatto che puoi avere anche buone intenzioni la tua causa può anche essere giusta ma siccome la legge è uguale per tutti allora faccio pagare a chiunque mi arrechi un danno quindi diciamo ha ragionato un po' su questo considerando questo principio qua ecco la legge è uguale per tutti punto con ultima generazione davanti a queste dimostrazioni diciamo il discorso che si dovrebbe fare è anche credo perché lo fanno considerando che il momento che stiamo vivendo è un momento che non ha non ha precedenti perché la crisi climatica è qualcosa di enorme che non si è mai verificato prima ed è qualcosa che veramente ha degli impatti grandissimi su queste e le prossime generazioni e com'è che non riusciamo a capirlo ma lo capisce solo l'ultima generazione che non vuole essere l'ultima dicono sempre così come è che noi invece non riusciamo a capirlo noi perché Francesca il tuo gruppo l'hanno capito bene tant'è che appunto avete protestato perché beh anzitutto perché parlano di cose scomode parlano di cose scomode che le persone a volte non vogliono sentire è un po' come nella storia del film di Don't Look Up per chi ci ascolta e non l'ha visto è quel film in cui attraverso la metafora del meteorite che cade sulla terra e che nessuno vuole guardare alla fine si va allo schianto e questo è un po' quello che succede con la crisi climatica che è un problema talmente grande e che talmente tocca da vicino le nostre vite e l'abbiamo visto in realtà tante volte l'abbiamo visto banalmente anche quest'estate con la tempesta che c'è stata che ha fatto dei danni enormi che per fortuna è venuta alle tre di notte ma pensiamo se fosse successo in un'ora qualunque della giornata cioè veramente c'erano persone che potevano rischiare la vita ma insomma poi la crisi climatica insomma colpisce ci colpisce su tanti fronti però per dire che è un aspetto sicuramente che ci fa paura e che probabilmente non vogliamo guardare e quindi come dire le destre tante volte strumentalizzano per come dire per creare una rassicurazione che però è una rassicurazione che può essere soltanto di breve periodo e si pensa sempre insomma ci inducono a pensare che la transizione ecologica sia soltanto qualcosa che implica una rinuncia un sacrificio e invece non è così invece assolutamente non è così ma oltretutto c'è un'economia dietro la transizione ecologica cioè volendo si potrebbe anche guadagnare dalla transizione ecologica quello che non capisco perché parte politica che spesso lo dirò tutto anzi è per il libero commercio le libere industrie l'iniziativa privata verrebbe da dire si oppone invece a una possibilità di aprire sconfinati praterie all'industria poi della transizione ecologica la transizione ecologica è conveniente sotto tanti punti di vista ma pensiamo soltanto a quello energetico se tutti potessimo utilizzare i pannelli solari normalmente una fonte di energia gratuita risparmieremo tutti pensiamo anche al traffico prima si parlava di aria ecco se tutti potessimo prendere il treno la bicicletta poi è chiaro che non tutti possiamo persone che hanno disabilità eccetera però se la maggior parte delle persone potesse prendere il treno la bicicletta il mezzo pubblico eccetera ma vivremo tutti meglio a questo punto ci sono realmente delle alternative e così vale anche il caso degli agricoltori c'è stata questa protesta molto forte degli agricoltori ma anche io non si capisce dove inizia il mito dove inizia il mito perché poi ci sono mille e milioni di fake news che girano in tutta Europa no sì condividete gente non ne vogliono parlare perché poi è quello che si arriva i forconi invece c'è un tema del ricoltore appunto è arrivato anche sul palco di Sanremo quindi insomma il tema è importante è successo appunto alle porte di Milano qualche settimana fa il tema è importante diciamo che questa protesta è stata come dire declinata come una reazione diciamo alle posizioni verdi dell'Europa però se andiamo a vedere quello che penalizza di più gli agricoltori è la politica agricola comune la PAC e la PAC anzitutto è quella che cuba più risorse la gran parte delle risorse a livello comunitario e poi la PAC di fatto che cosa fa che è l'obiezione che poi hanno fatto i verdi che hanno fatto tantissime associazioni ambientaliste di fatto va a pregnare i grandi colossi non i piccoli agricoltori che potrebbero fare agricoltura sostenibile e quindi è chiaro che chi prova a fare sostenibile da oggi in un certo senso è penalizzato non ha le risorse necessarie però il problema è la PAC come è scritta la PAC non la transizione ecologica di per sé quindi c'è un'alternativa certo che c'è basta rimanere in Europa e fare meglio il proprio lavoro mi verrebbe anche da dire in alcuni casi comunque e invece avete parlato appunto di Europa Verde e tutto siamo quasi in chiusura devo farti l'ultima domanda cosa è successo al mio amico Monguzzi cosa ne avete fatto poverino sappi che qui sei in zona free Monguzzi stay with Monguzzi te lo dico noi siamo proprio di parte in quello cosa è successo spieghiamo bene a chi si sta ascoltando la casa lui era il capogruppo del vostro gruppo lui era il capogruppo e abbiamo deciso era il capogruppo abbiamo deciso di cambiare il capogruppo il motivo è molto semplice e cioè che fai il capogruppo significa saper fare sintesi all'interno del gruppo cioè saper confrontarsi con il gruppo e poi insomma portare la posizione condivisa ai giornali sapersi confrontare quindi con i propri compagni le proprie compagne anche con gli assessori nel momento in cui è venuto a mancare questo lavoro ci siamo trovati in difficoltà mi dispiace dirlo però è così non ci giro attorno e quindi non erano questioni di merito cioè sul merito noi siamo concordiamo su tutte le battaglie era una questione di metodo e di approccio approccio perché non possiamo essere soltanto come dire opposizione non possiamo soltanto dire che le cose non vanno bene chiaro che le cose non tante cose non vanno bene sono la prima a dirlo però poiché siamo in maggioranza abbiamo anche il dovere di dare delle soluzioni di rimboccarci le mani sporcarci anche le mani entrare nel merito delle cose e trovare delle soluzioni e questo richiede tantissima tantissima fatica è molto più complicato di criticare e basta ma è quello che ci sentiamo di fare e non riuscivamo a fare non c'è nessun disegno come dice Monguzzi che dovete unirvi con la lista sala diventare un'unica cosa posso dire una cosa questo ci tengo a dirlo perché questo l'ho visto vedi noi le nostre ragioni le abbiamo spiegate chiaramente e nonostante le ragioni insomma fossero chiare però è stato interpretato questo passaggio come qualcosa di voluto da qualcun altro voluto dal sindaco cioè tu dici perché fai questa cosa e qualcuno ti dice ah non l'hai voluta tu l'ha voluta il sindaco no invece rivendicate la scelta tua di Tommaso Gorini no però è proprio un approccio cioè come dire che poiché sei una persona giovane magari sei anche donna allora c'è qualcuno che ha deciso per te no nessuno ha deciso sì ci vedo anche questo nessuno ha deciso per me per noi abbiamo preso una decisione sicuramente sofferta che non avremmo voluto prendere ma l'abbiamo presa perché non era più possibile lavorare in quel modo lì quel processo lì invece della possibile unione dei gruppi consigliari è qualcosa che deve essere deciso con la base con la base del partito che non decidiamo io Tommaso Gorini o Carlo Monguzzi è qualcosa che si sarebbe deciso a prescindere ma attraverso un lavoro collettivo con la base del partito quindi in caso si sentono tutti gli altri esatto dopo il congresso si sentiranno tutti gli altri vi siete ancora con Monguzzi ogni tanto vi vedete in consiglio siete ancora tutti vicini o si è spostato no siamo sempre lì ah meno male tornate a fare la pace ci piace non abbiamo nessun rancore personale so che hanno detto la parola sintesi e per lei Monguzzi è un po' difficile proprio come parola sintesi e Monguzzi difficilmente troviamo la stessa frase però proviamoci dai perché potrebbe essere una buona occasione per far vedere che si può fare bene a Milano nessun rancore e nessuna ritrosia Good Morning Milano confida nelle vostre capacità vi dico la verità noi vorremmo tanto avere tanti treni biciclette piste ciclabili tutti che riguardano la piste ciclabili a noi ci piacciono le piste ciclabili quindi benvengano anche quelle in Monforte quelle disegno va benissimo più ne facciamo meglio è così la gente impara ad andare in giro in bicicletta va benissimo no Francesca grazie mille davvero di aver cercato un po' tutta questa situazione appunto che c'è su Milano complicata da una parte abbiamo visto dall'altra le soluzioni si possono trovare bisogna lavorare insieme giustamente questo è fondamentale insomma lo state dicendo da tempo e quindi io non posso che dirvi buon lavoro cercate di fare qualcosa per noi cittadini perché ne abbiamo proprio bisogno grazie grazie a voi Francesco Cucchiara consigliera comunale di Europa Verde noi torniamo a far pochissimo ancora qui prima un po' di musica grazie mille Francesca spero di ritrovarti presto però magari ci vieni con Tommaso così mi raccontate un po' come va in consiglio comunale questo nuovo gruppo grazie grazie mi farvi piacere unito e coeso grazie mille allora andiamo con un po' di musica Annalisa con Sinceramente Sinceramente Annalisa e mentre gli ospiti ci salutano vanno fuori dal nostro studio noi non possiamo che dare il buongiorno il buon lunedì e il buon lavoro a tutti quanti perché appunto oggi lunedì e il buon lavoro è quello di Filippo Poletti buon lavoro Buon lavoro a tutti parliamo questa settimana dei tanti lavori che ruotano intorno al mondo del calcio la prima parola della settimana è Milan qui a San Donato milanese da dove vi sto parlando è in arrivo tanto lavoro sì dopo il via libera della giunta comunale il club rosso nero ha acquistato i terreni dell'area San Francesco sorgerà uno stadio da 70.000 posti con uno store un museo un hotel e infine i nuovi uffici dei club obiettivo partire con il cantiere nel 2025 cioè l'anno prossimo e fare il taglio del nastro nel 2028 palla ora alla regione Lombardia la seconda parola chiave della settimana è Juventus domenica prossima ci sarà Juventus Frosinone la Juve ha giocato a proposito di ospitalità d'anticipo infatti è l'unico club d'Europa ad avere e gestire un hotel a quattro stelle il J Hotel all'interno spiega il general manager Massimiliano Moncalieri 138 stanze di cui 32 riservate ai giocatori della prima squadra la terza e ultima parola chiave della settimana è Frosinone eccolo qua il cappellino del Frosinone anche la squadra di Eusebio di Francesco ha uno stadio di proprietà è lo stirpe dal nome della famiglia che lo ha costruito pensate una struttura da 17.000 posti all'interno della quale appunto accogliere i tifosi e i tanti lavoratori sì perché lo abbiamo detto intorno ad ogni partita ci sono tanti lavori e tanti lavoratori buon lavoro a tutti 8 e 55 minuti siamo arrivati alla fine di questa puntata di Good Morning Minano ringraziamo ancora Filippo Poletti per il suo buon lavoro dopo di noi l'avete sentito prima nel suo sommario ci sarà Ambrogio Curti con senti questa la musica internazionale nazionale e curiosità dalla grande e preparatissima voce appunto di Ambrogio Curti noi 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 ci rivediamo e ci risentiamo domani ci risentiamo qui su Crystal Radio 96.2 FM Dub Plus app e pure il sito internet ma ci rivediamo anche perché Milano News eh sì vi fa vedere quello che facciamo ma poi c'è una grande novità eh non dovete mai dire e sì se avete vicino Siri perché si mette a parlare da solo mentre mentre voi state cacchierando comunque la novità qual è? centesima puntata quest'oggi e abbiamo un sito ebbene sì goodmorning.milano.it il sito di internet di Good Morning Milano e le voci che sentite qui sono sempre quella mia e dei miei ospiti che tornano domani mattina alle 7 alle 9 dalle 7 alle 9 domani mattina sempre qui su Crystal Radio Good Morning Milano per farvi grande compagnia e raccontarvi tutto quello che succede a Milano ciao a domani Füri E I I I I Grazie.